Ciao, sono Isabella Adriani, benvenuti nel mio blog. Io amo molto le fiabe, se mi seguite lo sapete, ma la vita non è sempre una fiaba, lo so. Però nel mio piccolo, da bruttina e secchiona, sono riuscita a fare l'attrice, che era il sogno della mia vita da sempre, a scrivere le mie fiabe e anche a trovare il mio principe. E adesso vorrei in qualche modo fare qualcosa per voi. Nel mio piccolo vorrei darvi dei consigli per vivere i vostri talenti, per essere il meglio di voi stesse e per essere un po' cenerentole, come me, siamo tutte cenerentole. Vi aspetto, scrivetemi e cercherò di darvi dei consigli io con una specie di patina. Se ci riesco, ci proverò, farò del mio meglio, ve lo prometto. Un bacio, ciao!